Musica Ciao a tutti, io mi chiamo Aghi, bel nome vero? Io sono un ragazzo di 12 anni, vivo a New York e sono davvero un tipo speciale. Mi spiego, voi non mi conoscete, ma io non sono come voi ragazzi normali, cioè, voglio dire, io mi sento normale, faccio cose normali, ma per sentirmi del tutto normale, gli altri dovrebbero considerarmi così, cosa che in modo evidente non fanno. Se mi vedeste capireste perché. Quando le persone mi incontrano per strada, hanno reazioni diverse, molti fanno finta di niente, alcuni mi guardano disgustati, altri mi guardano con la coda dell'occhio, pensando che io non li veda. Questo succede a causa della mia faccia, che è davvero inguardabile. Ormai ci sono abituato, spero però che un giorno non accada più. A volte la mamma mi racconta come sono nato e lo racconta in modo da farmi sorridere, nonostante sia stato un momento davvero difficile. I dottori si erano resi conto che qualcosa non andava nella mia faccia, ma non credevano sarebbe stato così grave. Quando nacque, calò il silenzio in sala parto. Il mio viso era davvero deforme e per migliorarlo un po' ho subito 27 operazioni, ma nonostante questo è ancora spaventoso. La gente pensò che non sia andato a scuola a causa del mio aspetto, ma non è così, è stato a causa delle operazioni. Ora però finalmente anch'io andrò a scuola e aspetto con ansia e trepidazione di poter cominciare. Così finalmente la scuola è iniziata. Mi sono accorto però che a scuola nessuno osa toccarmi. L'ho scoperto la settimana scorsa, alla lezione di ballo, quando la prof ha scelto Ximena per fare coppia con me. Ma a quanto pare sono talmente spaventoso di averla fatta scappare. No, non voglio danzare con August. Immagino sia come la formagite, la malattia del libro Il diario di una schiappa. Nel libro i ragazzi hanno paura di toccarsi l'uno con l'altro e di prendersi le pulci del formaggio munfito. Solo che il formaggio munfito sono io. Per me Halloween è la festa più bella di tutte. Nessuno può vedere la mia faccia e tutti mi considerano normale. Quest'anno ho deciso di vestirmi da Boba Fitt, un personaggio di Star Wars. Non me la sono sentita e allora mi sono messo il costume da urlo sanguinante. Questa giornata sarebbe dovuta essere fantastica, ma si è rivelato un incubo. Entrati in classe vado a sedermi accanto a Darth Sidious, che era Julian, e Dolunnie. Ho ascoltato la loro conversazione e mi sono reso conto che parlavano male di me. Dicevano che era un mostro. I prof ci hanno preparato per la gita annuale in una bellissima riserva naturale. Tutti i miei compagni sono su DG, e lo sono pure io, ma sono molto agitato. Saremo tre giorni e due notti fuori, e io non ho mai dormito fuori casa. L'idea però mi entusiasma molto. Finalmente siamo partiti. Il primo giorno mi sono divertito tantissimo. Anche il secondo giorno è stato come il primo, fino alla sera. Una sera che non dimenticherò mai. Eravamo andati nel prato gigante a vedere il film, tutti insieme appassionatamente. Ad un certo punto Jack mi tira una gomitata e mi dice che deve andare in bagno, e così andiamo nel bosco. Jack si incammina, io lo seguo, però è così buio. Alla fine Jack trova l'albero perfetto, fa quello che deve fare, ma... All'improvviso intravedo tre ragazzi di terza, che ci puntano le torce contro. Un ragazzo me ne punta una in faccia e inizia a strillare. Urla, mostro! Un altro fa dei commenti sulla mia faccia. Che schifo! Guarda, che paura! Un ragazzo si mette davanti e continua a prendermi in giro. Capisco che dobbiamo scappare e corriamo via. Più veloci del vento e raggiungiamo i nostri insegnanti. Finalmente in salvo. Ma che brutta esperienza! Ciao, io sono Summer, ho 11 anni e frequento la Beach & Brip. Tra le alunni di prima c'è uno studente diverso e con una faccia strana, ma non mi importa perché ha un gran cuore ed è super simpatico. Anche se all'inizio era un po' scossa. Il ragazzino si chiama August. Nessuna osa avvicinarsi a lui, altrimenti si prende la peste e si ha 20 secondi per lavarsi le mani e trovare un disinfettante. Alla mossa sugli Egizi eravamo vestiti da mummie e quando sono andata al distributore dell'acqua ho incontrato Jack che mi ha chiesto che a August era arrabbiato. Ciao, io sono Jack, ho 11 anni, sono di media altezza e ho i capelli biondi e ricci. Abito a Manhattan, ho un carattere vivace, estroverso, simpatico e tenace. Sono il migliore amico di August. L'ho conosciuto a scuola quando il nostro preside ha chiesto a me, a Charlotte e a Julian, di dargli il benvenuto e dimostrargli la scuola. Quando l'ho salutato gli ho stretto la mano e ho accennato un sorriso, anche se ho subito abbassato lo sguardo perché mi sembrava strano e mi faceva un po' paura la sua faccia malformata. La nostra amicizia si è sviluppata nel corso dell'anno e si è rafforzata molto, tranne ad Halloween. Ciao. 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 Ciao, mi chiamo Julian e vivo a New York I miei genitori hanno scelto la Beecher Prip come scuola perché è una delle migliori della mia città Da quando August è arrivato però la mia vita è cambiata e non poco Tutto per colpa sua, prima ero il ragazzo più popolare delle prime e poi, boh, non lo so Quando ero piccolo avevo visto una pubblicità su uno zombie che era saltato fuori dallo schermo della tv E che mi aveva letteralmente terrorizzato Poco dopo in un film di Harry Potter è comparsa la faccia di Voldemort E ho iniziato a urlare, stavo male, avevo una paura che non si poteva controllare Infatti ho cominciato ad avere incubi notturni Col tempo ho superato i brutti sogni Ma quando ho conosciuto Oggy, tutto è precipitato di nuovo e gli incubi sono tornati Il problema è che non ero più un bambino piccolo, ero in prima media Sapete che cosa mi ha fatto arrabbiare? Che mio amico Jack si è interessato più ad August che a me Così mi è venuta l'idea di lasciare dei bigliettini nell'armadito di August C'erano scritte frasi come Tu non piace a nessuno o ti odio mostro Sono stata davvero un idiota, non avrei mai dovuto scrivere quei bigliettini Ma in quel momento ero troppo arrabbiato per capirlo Una persona però mi inviterà e non a Parigi Che cosa mi ha fatto, non mi ha fatto, non mi ha fatto Grazie a tutti. Grazie a tutti.